Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato, IRforex.com, questo video è per mostrarvi un'idea di trading che ho per la prossima settimana, il cambio valutario è dollaro contro il dollaro canadese, come potete notare sul grafico settimanale il mercato in questione ha iniziato a mostrare dei minimi e massimi crescenti, quindi nel medio termine abbiamo avuto una chiara situazione long, vedete, eccolo qua, e proprio sui livelli 1,29 si è venuta a formare una classica barra di esaurimento dei compratori con un doppio minimo, una barra FTV, quindi corrispondente alla mia strategia più utilizzata, breakout dei massimi, quindi è stata confermata a 1,31 il breakout con la chiusura settimanale al di sopra di questi livelli rompendo quello che poteva essere principalmente la resistenza che poteva portare giù i prezzi. In realtà questa resistenza ha buttato un po' giù i prezzi, vedete, non c'è una chiusura fortemente long, ma la cosa bella è che quello che si è venuto a creare nel grafico daily, eccolo qua, proprio venerdì, è una barra di indecisione, anche FTV Classic Power Combo, quindi ha le caratteristiche del setup che io voglio vedere e va a rompere, vedete, un'area dinamica che io ho segnato con queste due zone che portava i prezzi a fare questo canale, chiamiamolo così, a flag, a bandiera che poi in effetti è stato rotto proprio con questa giornata, quindi quattro giorni fa e ha, con queste tre barre, consolidato al di sopra di 1,31 che reputo in questo momento l'area principale per il cambio dollaro Canada. Le tre barre precedenti sono barre di più bassa volatilità, almeno come corpo, come potete vedere c'è stata molta oscillazione, ma poi in realtà i prezzi non hanno mostrato barre di conferma di una direzionalità e questa cosa mi piace moltissimo, quindi forma poi quest'oggi una barra di indecisione anche FTV e credo che, almeno per quanto mi riguarda personalmente, potrei pensare di andare a tradare questo cambio con un ordine di acquisto by stop, quindi un ordine di acquisto breakout, sopra i massimi fatti proprio nella giornata di venerdì, uno stop inserito nella zona sotto i livelli di minimo e di supporto, con la ricerca dei massimi che è appena sopra 1,33, quindi 1,33,15 potrebbe essere almeno il primario target, in realtà poi se questa coppia ci ha abituato a fare movimenti anche molto più repentini, quindi si potrebbe anche pensare su questi livelli se si vuole provare a fare un movimento più ampio, di andare a break even e poi provare a lasciare il prezzo correre nuovamente fino a quando non ci dovesse il mercato dare l'idea dell'esaurimento della tendenza, quindi in questo caso se io vado a prendere, vedete, i livelli poi principali di supporto e resistenza in questi casi sono quelli settimanali, abbiamo un livello intermedio daily che è l'1,35 e poi sopra 1,36 e 1,37. Quindi diciamo che il segnale in questione, eccolo qui, potrebbe avere un risvolto di risk reward molto importante, molto interessante, ovviamente bisogna sempre utilizzare il nostro massimo stop alle perdite perché nessuna operazione è sicura nel mercato, chi ha ragione è sempre e solamente il mercato, quindi se io ovviamente farò questa operazione avrò il mio stop massimo alle perdite che avrò ovviamente configurato prima, quindi cercando di perdere esclusivamente quello che posso permettermi di perdere, ma fatto questo poi se il mercato dovesse andare si lascia correre, si cerca di magari spostarsi nelle giornate con uno stop profit e quindi con un'operazione bloccata in profitto. Bene, per oggi è tutto, se volete stare connessi con me potete andare su www.ierforex.com oppure seguirvi nei miei social Facebook, LinkedIn e Instagram. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata e un buon Trading Simple. Ciao a tutti!